La volante completa la linea DBS e offre al cliente una combinazione delle caratteristiche sportive già presenti nell'altro modello, ovvero marchio di fabbrica della serie, con in più il brivido della guida senza cappotta. La DBS volante ampia la personalità della DBS e si rivolge a quei piloti che vogliano esaltarsi con una sportiva finemente modificata, sperimentando al contempo la corroborante sensazione del contatto con la natura. Questa giusta posizione di apertura ed elevate prestazioni dà un senso particolare ad ogni esperienza di guida, sia nelle inebrianti gite sulle proprie strade preferite, che durante i viaggi più lunghi. Il nome volante riconduce alla rapidità dei movimenti e alla capacità di volare e definisce alla perfezione il potenziale e le caratteristiche dinamiche dell'auto. Sedicesima decapottabile dell'Aston Martin in 95 anni, la DBS volante fa leva sulla grande esperienza del marchio nella progettazione di volante iconiche e si configura come una 2 più 2, con due sedili aggiuntivi destinati ai più piccoli o ai bagagli extra. Quando la cappotta è rialzata, garantisce un ambiente caldo e confortevole, mentre quando si abbassa, con la semplice pressione di un tasto, scompare all'interno di una elaborata della copertura tonno.